Piano, piano che ti fai male, piano, bravissimo, bravissimo Ogni volta è una festa quando riesci a scendere le scale Buongiorno a tutti quanti, ragazzi benvenuti in un nuovo video Ormai avrete già visto qualcosa mentre mi giravo Comunque volevo farvi vedere i progressi del nuovo studio Come potete vedere c'è un nuovo pavimento È venuto sul mio cognato con degli amici Hanno fatto un lavoro in tempi record e fenomenale Abbiamo cambiato le piastrelle, sono stati messi battiscopa Tutto quanto, tutti i muri pitturati Sistemate alcune cose, ridotta l'umidità eccetera Intanto vi ringrazio ancora per tutti i consigli che mi avete lasciato sotto i vari video E adesso sono qui per farvi vedere un po' la situazione dello studio E soprattutto chiedere a voi un consiglio su come arredarlo, come gestire lo spazio Ovviamente vi lascerò in descrizione la piantina con la posizione delle finestre eccetera Se qualcuno di voi ha voglia di provare a metterci, provare ad arredarla eccetera Fatemi sapere Iniziamo da questo angolo, così avete una visuale più o meno totale dello studio Sono circa 55 metri quadri Qui come potete vedere c'è la scrivania PC Con sopra in realtà un ripiano al momento Perché ho registrato un video unboxing di questo coso qui che vi faccio vedere tra poco Ma purtroppo non avevo nessuna scrivania né altro Quindi ci ho appoggiato sopra il ripiano di legno Ho registrato il video insieme a Simone E' ancora un po' tutto incasinato Come potete vedere abbiamo portato un bel po' di roba Non è ancora tutta Intanto l'abbiamo messa attorno Per cercare di lasciare un po' libero allo spazio E capire come e dove posizionare tutte le varie cose Le luci Intanto ho messo alcune lampadine smart Tanto per avere un po' di luce E basta Purtroppo queste due prese qui non funzionano ancora E ha anche alcuni faretti Infatti vedete che ce ne sono accesi solo due Dovrò sistemarli a breve ma per ora non ho avuto tempo Comunque il video unboxing Che purtroppo avrà un audio pessimo ragazzi ve lo dico già Uscirà tra qualche giorno Intanto ho acceso anche il softbox Così avremo un po' più di luce I faretti appunto come vi ho detto non stanno funzionando Questa parete è decisamente cambiata Sono state tolte tutte le piastrelle Tutto tirato dritto Ho fatto lasciare gli attacchi dell'acqua Anche se in realtà sono ancora sigillati Perché potrebbero sempre tornare comodi Ho portato i vari cavalletti E qui c'è questo Che è il soggetto dell'unboxing Ovvero una sorta di braccio robotico È un jib della Edelkron Con una testa con due motori Che mi permetterà di effettuare delle riprese Super fluide e precise Lo sto ancora testando L'ho provato solo un po' in live L'altra sera Veramente veramente una figata Qui abbiamo un paio di cavalletti Ovviamente ho portato le sedie Ci sono una marea di cavi Adesso li ho raggruppati un attimo dentro un paio di borse Ma ce ne sono ancora tanti altri Perché ho fatto un'attività con Macete e Lenovo Qui ci sono due tv Una è l'85 pollici Sony Quello che avete visto in un video qualche mese fa E l'altra invece è l'82 Samsung Che avete visto più di un anno fa Che avevo messo in soggiorno Qua sopra c'è qualche obiettivo Adesso sono ancora messi tutti male La scatola dell'Edelkron Un supporto da parete Per ovviamente una delle tv L'altro ce l'ho già Qui abbiamo un po' di roba Con uno scatolone con dentro schede video e varie cose Qui è rimasta la stampante Che principalmente utilizzo per scannerizzare documenti Oppure per stampare le varie autocertificazioni Qui c'è la scatola dell'aspirapolvere nuovo Che ho comprato al volo Giusto per averne uno minimo decente Per poter aspirare anche nelle zone più scomode La scatola della Playstation 5 Qui ci sono i vari pannelli acustici Che andrò a posizionare all'interno dello studio Non so ancora bene come Sono 6 in totale E se non ricordo male Sono 120x60 Più o meno Il monitor 32 Il 34 Anzi 35 Asus Quello 200Hz IPS Con 500 zone di illuminazione Il NUC Extreme I vari Sonos One Altre due sedie con Una parte del vecchio simulatore Qui abbiamo il beam della Sonos Con anche il subwoofer Qui c'è il Super PC Che come vi ho detto anche nel video Dove stavo smontando lo studio Arriverà Ve lo prometto Intanto ve lo faccio vedere un attimo Eccolo qui È vivo Funziona È una bestia Qui abbiamo ancora un paio di scatoloni Che in realtà devo ancora aprire Dove avevo messo praticamente Tutte le varie schede video Eccetera Vediamo un attimo Qua c'è scritto Schede video Radeon Non lo so perché le ha segnate mai Ok Più scheda madre Quindi ci sono un po' di Tastiere Un po' di tutto Ok Sì esatto Ci sono tutte le varie schede video Qui abbiamo un altro scatolone Sempre con schede video Waterblock Tastiere Eccetera Che dovrò andare Tutto quanto A sistemare E qui abbiamo I 227 MG27Q Non mi ricordo Di Asus Che sono sempre quelli QHD IPS Eccetera E qui invece abbiamo I tre monitor Che erano nel simulatore Che avete visto In uno degli ultimi video Questo è più o meno Tutto Per quanto riguarda Quello che c'è all'interno Dello studio Ovviamente c'è anche Kumar Che Lui partecipa ormai Sempre a tutti i vari video Qui invece Verrà gestito tutto Una sorta di Bagno unico Non verranno Abbattute pareti Ma verrà fatto una sorta Di antibagno a destra E un bagno Con la vasca in fondo Verrà tutto ripiastrellato Rifatto gli impianti Di alcune cose E fatto per bene Qui ci sono Due scaffali Più bassi Di legno E metallo E ne ho altri due Che sono Un po' più alti Questi se non sbaglio Sono un metro e trenta Di altezza E gli altri invece Sono un metro e ottanta Poi C'è Questa porta Questa È una porta Ray In tanti mi hanno commentato Sotto l'ultimo video Dove vi avevo fatto vedere La casa Che quella deve essere Una porta Ray Per Per legge Eccetera In effetti È una porta Ray Solo che si tratta Di una porta Ray Classica Io ovviamente Avendo il mio studio Qua sotto Eccetera Voglio avere una porta Ray blindata Adesso la stanno producendo E quindi La andrò a installare Il mese prossimo Probabilmente Qui invece C'è la scala mortale Che vi avevo fatto Vedere nel video Avete visto anche La difficoltà Che ha avuto Kumar A scenderla Ed è veramente Super Super Scomoda Iper ripida E veramente stretta Qui Ho già deciso Al 99,9% Di ascoltare Uno dei vostri consigli E Ovvero Mettere Un ascensore Ok A come piace l'idea Ma non penso In realtà Sappia Che cosa sta andando incontro Più che altro Non so bene Come potrà utilizzare Da solo l'ascensore Non credo E Per È una sorta di Montacarichi privato Vuoi le coccole Ha bisogno di attenzioni Comunque quanto è bello Ogni volta Ormai I commenti Sono tutti per lui Cosa stai cercando di fare Hai un pezzo di scotch Fermo Fermo Hai un pezzo di scotch Fermo Hai un pezzo di scotch Sulla coda Stai fermo Te lo tolgo io Cosa stai facendo Ok Tolto Tolto Va bene Ok È matto È matto Così Bravissimo Vi dico un attimo La mia idea E quello che avevo pensato Di fare Allora Questa zona Avevo pensato Di adibirla A zona Più o meno Cinema Ovvero Di andare a sfruttare Questa parete Per posizionare Una tv E in un futuro Probabilmente anche Un proiettore Ovvero L'85 pollici Di sony Quindi Su questa parete L'82 Invece Forse avevo pensato Di posizionarlo Su quella E andare a creare Una sorta di Scrivania A comparsa O utilizzabile In giro Diciamo Quindi con Delle rotelle E soprattutto Regolabile In altezza Da utilizzare Come test bench Ah A proposito Se vedete Qui mancano Le piastrelle E lì Manca la porta Perché La porta Perché sono state Messe le piastrelle E non c'è ancora Stato tempo Di sistemare La cornice Dell'altra E invece qui Perché altrimenti Avrei dovuto togliere Questa porta Ray Comprarne un'altra Farla installare Con l'altezza Delle piastrelle giuste In attesa Dell'altra Quindi ho chiesto Di non posizionarle E aspettare Un pochino Ah Una cosa che in realtà Ho dato per scontato Se vi siete accorti Qui non c'è più l'arco Ho lasciato Ovviamente Una muretta Questa qui Anche perché All'interno ci sono Dei collegamenti Sia per quanto riguarda La corrente Ma anche per quanto riguarda Internet In questo caso Ho già la linea attiva È stata attivata In sette giorni Che in questo periodo È fuori di testa Sette giorni Scarsi Non è una FTTH Purtroppo Arriva una 100 MB Normale Ma diciamo Che per ora Mi va benissimo Poi più avanti Vedremo Stavo dicendo Televisore Di qua Un divano E probabilmente Qualcos'altro Magari il simulatore Non lo so ancora Mentre di qua Utilizzare tutta Questa stanza Proprio per Scrivanie Postazioni Appunto La test bench Con l'82 Lo so È esagerato Lo so Però bisogna anche Esagerare ogni tanto E effettivamente Non so dove metterlo Quindi per ora Quella è l'idea Adesso Andiamo un attimo Di sopra Perché voglio farvi vedere Anche l'albero Di Natale Ne ho preso un altro Un po' più carino E vi faccio vedere Anche la cucina Anche qui È stata sistemata Un pochino Ma non è ancora perfetta Ho messo le luci A led Sotto La cucina Ovviamente Tutte le luci Sono comandate Con Alexa E qui abbiamo L'albero di Natale Con le varie Twinkly Che vi ho Ok Quella di sotto Dovevo ancora collegarla Quindi non sta funzionando E qui abbiamo Tutti i vari regali In cucina Barra soggiornino Non lo so Quello che è Comunque Sala da pranzo Ho messo il 65 Che è stato praticamente Uno dei primi televisori Che ho messo Nella vecchia casa E mi sembra Di avervi fatto vedere Tutto Ci sono alcuni Elettrodomestici E alcune cose Che ho comprato E vi farò vedere In un altro video Visto che sono Tutto smart Dimmi Voleva Vabbè Stiamo sistemando Ci sta ragazzi E basta Comunque ragazzi Probabilmente ci troverete Più tardi In live Sul canale di Maya Vi lascio ovviamente La piantina E andremo anche A aprire tutti i regali A mezzanotte Credo Penso A quanto pare E niente Vi lascio la piantina E le varie informazioni In descrizione Provate ad arredarla A fare Quello che volete In realtà E mandatemelo Sulla mail Che vi lascio In descrizione Vi ricordo anche Tutti i vari social In descrizione BlinkMyPC E ci vediamo Con il prossimo video Ciao ciao Vi ricordo che è disponibile BlinkMyPC Il sito perfetto Per essere sicuri Di realizzare Il proprio nuovo computer Al meglio Spendendo il meno possibile Dove è possibile Realizzare configurazioni Personalizzate Oppure scegliere Tra quelle proposte In base al prezzo desiderato Ovviamente Non mancano le offerte In tempo reale E il mio merchandise Trovate il link In descrizione Grazie a tutti